Domenico Palmieri, continuate le vostre visite nei centri della regione Abruzzo, oggi siete a Ripateatina, che giornata è questa per la prevenzione all'osteoporosi? Sì, continua questa esperienza in giro per i comuni abruzzesi per fare appunto prevenzione per l'osteoporosi. Oggi è un giorno anche un po' particolare perché questa cosa la facciamo in collaborazione con il centro anziani del comune di Ripa, quindi a maggior ragione ancora più dentro e più vicini alle persone che hanno bisogno appunto di fare prevenzione per l'osteoporosi. Un ringraziamento particolare a tutti quelli che sono stati gli artefici di questa giornata, con Confartigianato Sanità, con il dottor Basile, con la signora Paola del centro anziani e soprattutto col comune nella figura di Roberto Luciani, che d'altronde è anche un mio caro amico e ringrazio in modo particolare. È importante per noi fare questa giornata qui a Ripa, speriamo che il comune ci inviti di nuovo a controllare i nostri pazienti dopo le nostre prescrizioni e i nostri esami densitometrici e speriamo che queste promozioni per la prevenzione in tema ortopedico vengano sempre più fatte in diversi comuni e che soprattutto questa sensibilità nei confronti di una patologia, a mio giudizio, sociale, visto che ha dei costi importanti nella sanità, quindi la prevenzione dell'osteoporosi vuol dire prevenire anche le fratture, prevenire i tempi di degenza, di ricovero, prevenire soprattutto gli interventi chirurgici, quindi speriamo che questa sensibilità aumenti. Come Presidente di Confartigianato Chieti abbiamo deciso insieme ai medici specialisti, che poi ci saranno d'aiuto nelle varie manifestazioni, di riproporre tematiche dedicate in ambito medico e sociale nell'entroterra Chietino. Abbiamo riscontrato comunque che nella popolazione le problematiche ci sono e vanno diagnosticate in tempi rapidi. Come Confartigianato Sanità posso soltanto dire che la diagnosi e la prevenzione sono assolutamente fondamentali sul territorio, sia in ambito sociale ma soprattutto in ambito medico.